benvenuti in questo video dove vi spiegheremo in cosa consiste il fastar bonus il fastar bonus è un bonus in più che abbiamo nei primi mesi per poter strutturare una rete praticamente possiamo guadagnare tra i 7.000 e 10.000 euro in solo 90 giorni con tre semplici step bisogna capire una cosa prima di tutto bisogna capire cosa sono i rev i rev sono i revenue sono praticamente come i punti che accumuliamo per un certo tipo di negozio abbiamo la scheda dove accumuliamo dei punti quando compriamo la merce quindi quando noi compriamo delle ucard mettiamo da parte questi revenue questi revenue li accumuliamo sempre con il nostro fatturato con l'acquisto delle ucard e con il fatturato che la nostra rete sviluppa tipo le persone che si iscrivono con il nostro codice e le persone che si iscrivono con le persone che sono scritte nel nostro codice quindi facciamo l'esempio io compro una iocard di 1000 euro ho messo 800 revenue da parte ho accumulato 800 revenue un'altra persona che si iscrive sotto di me fa la stessa cosa ne accumulo altri 800 e così via allora per fare il primo step bisogna avere un minimo di tre membri iscritti con noi nel nostro codice e praticamente possiamo averne pure di più anche 50 iscritti però il minimo deve essere di tre diretti poi accumulare un minimo di 3000 e abbiamo un massimo di 30 giorni cosa guadagniamo questo primo mese se abbiamo avuto queste condizioni guadagniamo tutte le commissioni più 500 euro di bonus il secondo step che condizione ci deve bisogna avere minimo un altro nuovo membro quindi un minimo di quattro membri e un minimo di 9000 rev accumulati per il massimo di 60 giorni c'è da capire che questi due step per esempio avremmo potuto fare pure in qualche giorno una settimana perché dipende da come noi sviluppiamo la nostra rete cosa guadagniamo col secondo step guadagniamo a parte quello che abbiamo guadagnato già col primo step tutte le commissioni più 1500 euro di bonus andiamo avanti c'è il terzo step bisogna avere un minimo di 5 iscritti diretti un minimo di 18000 rev nel massimo di 90 giorni abbiamo guadagnato gli altri due step guadagniamo le commissioni per poter fare questo terzo step più altri 3000 euro di bonus è così che possiamo guadagnare tra 7000 e 10000 euro in solo 90 giorni ma non è finita perché c'è ancora un quarto step dove il bonus è di 15000 euro e poi un quinto step dove possiamo guadagnare ancora 30.000 euro più tutte le commissioni tutto quello che abbiamo guadagnare se avete delle domande non esitate a contattarci grazie per averci seguito grazie a tutti